L'economia della conoscenza sta cambiando la geografia dei territori e quindi la riflessione è che la periferia non sarà più quella di una città, ma la periferia è quella delle città minori rispetto alle città che diventano poli di attrazione, quindi la sfida che dobbiamo vivere è oggi quella di rendere le aree diverse dai poli metropolitani di gravitazione, della conoscenza delle culture dei giovani, renderle ugualmente attrattive. È un grande problema che cosa possiamo fare noi? Perché la qualità di vita, i servizi, la professionalità trovino soddisfazione ai massimi livelli anche nelle città minori, nei territori del nostro paese, in particolare del Veneto. Le persone che sono venute oggi propongono la loro interpretazione propongono dei percorsi da seguire e sono una sfida per chi ha responsabilità politiche. Abbiamo messo in evidenza come il liceo Flaminio di Vittorio Veneto stia continuando negli anni ad alimentare gli elementi più brillanti delle università di Padova. Questo significa che nei territori nascono eccellenze e che queste eccellenze esplodono e sono una risorsa per il paese, ma nascono nei territori perché nei territori si fa cultura di eccellenza e c'è un fortissimo legame fra l'educazione e la formazione e la ricchezza delle imprese, la ricchezza del mondo dei servizi, quindi sono un incubatore di futuro.